Sarà inaugurata giovedì prossimo 24 marzo alle 16.30 alla stanza di Letizia, uno spazio di lettura all'interno della biblioteca Scarabelli, dove potranno essere riletti, consultati più di 2.000 libri, ma anche riviste e documenti appartenuti a Letizia Colai Anni, grazie all'iniziativa promossa dall'assessorato alla cultura di Caltanissette e dall'associazione Un De Donne in Movimento. Sarà così possibile leggere la storia attraverso i documenti raccolti dalla Colai Anni, figura chiave del processo di emancipazione culturale nei percorsi di rivendicazione sociale delle donne nissene, specialmente di quelle appartenenti alla classe femminile delle moglie e delle madri dei minatori di Zolfo. Conservare la memoria, questo l'obiettivo centrale. Saranno presenti Matilde Castronova e Nadia Tramontana, che hanno condotto un attento e minuzioso lavoro, anche dal punto di vista burocratico, per la ratifica del possesso dei documenti che fino ad oggi non era stato ancora mai effettuato. Interverranno anche Fiorella Falci, Marcella Geraci, Loredana Rosa, l'assessora alla cultura Marcella Natale e la portavoce di Un De Donne in Movimento Estervitale, che ha dichiarato un passo importante per consentire anche alle nuove generazioni di poter apprendere e conoscere la storia di Letizia Colai Anni ed anticipa inoltre che tra le prossime iniziative ci sarà anche Una Stanza Tutta Per Te, un luogo che punta alla diffusione della cultura, della parità di genere e dell'empowerment femminile.